Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Oggi è l'8 marzo, auguri innanzitutto a tutte le donne. Proprio oggi le donne italiane sono tornate in piazza per sensibilizzare l'opinione pubblica contro le violenze di genere. Sono 40 le città che hanno aderito all'invito del movimento chiamato Non Una Di Meno. Intanto lo sciopero di 24 ore, indetto per il mondo femminile, ha fatto andare in tilt molti servizi pubblici. Mentre vi parliamo è da poco iniziata la manifestazione per le vie del centro di Alessandria, città protagonista di una giornata fitta di eventi. Vediamo qual è stata questa giornata nel servizio di Chieti Porcello. È un 8 marzo all'insegna del rumore, nonostante lo sciopero di 24 ore proclamato in tutta Italia da Non Una Di Meno, che ha invitato ogni donna ad astenersi da tutte le attività sia fuori che dentro le mura domestiche. Il mirino è stato focalizzato sulle violenze di genere, ma anche su una più equa ridistribuzione dei ruoli all'interno della società. Manifestazioni si sono svolte in quasi tutte le piazze d'Italia, con molti servizi in tilt a causa dell'astensione lavorativa. Un 8 marzo che di anno in anno si sta togliendo di dosso l'abito del consumismo per diventare una giornata di lotta vera e propria di antiche rimembranze sessantottine. Ad Alessandria, proprio adesso, il corteo si sta snodando nelle vie del centro, con partecipanti armati di pentole all'insegna del rumore, in totale antitesi a quell'omertà o silenzio indotto che spesso il mondo femminile si ritrova a subire ogni giorno. La giornata mondiale, diventata l'8 marzo, con la data del giorno tramutata nel verbo lottare, per la città capoluogo di provincia è iniziata al liceo classico Saluzzo, dove gli studenti, sia maschi che femmine, si sono ritrovati davanti al portone per manifestare. Noi ci troviamo qua perché oggi è l'8 marzo ed è stato indetto uno sciopero internazionale contro la violenza sulle donne e noi studentesse facciamo parte di un'assemblea che si chiama Non una di meno e facendo parte anche del collettivo studentesco abbiamo deciso di portare in piazza anche noi come studenti uno sciopero dove appunto un presidio davanti al liceo Saluzzo, dove abbiamo deciso di formare dei tavoli di discussione dove si parlano di varie tematiche che la scuola spesso non ci permette di affrontare come ad esempio l'educazione al sessismo e come combattere il sessismo all'interno delle scuole oppure la figura della donna all'interno del giornalismo o i tabù e anche l'educazione alle differenze di genere, all'omosessualità e tutto ciò che riguarda comunque questi argomenti che spesso non abbiamo la possibilità di discutere in classe. Nel pomeriggio poi è stato protagonista il centro antiviolenza Medea che ha aperto le sue porte per un open day illustrativo di tutte le sue attività per molti ancora sotto traccia nonostante i casi di violenza continuino a crescere ogni giorno momento più poetico ma non certo più leggero in alcuni contenuti in piazzetta Marconi con la lettura itinerante di racconti, brani e poesie su donne e femminismo e infine la grande marcia contro la violenza maschile sulle donne e quella di genere non basta un giorno di lotta per cambiare le cose ma è un inizio in una società silenziosa dove ormai a parlare sono pressoché le immagini e i messaggi sul cellulare dove il fare amicizia vis-à-vis sta diventando sempre più demodè e dove ognuno parla addosso all'altro ritrovarsi in una piazza per condividere un unico messaggio è forse il sintomo di una società che speriamo voglia e possa ritrovarsi. Sempre a proposito di giornata internazionale della donna la Polizia di Stato ha scelto la città di Casale Monferrato per incontrare gli studenti della provincia di Alessandria durante l'incontro è stata protagonista la campagna di sensibilizzazione chiamata Questo non è amore ma sentiamo di più da Franco Capone In occasione della ricorrenza dell'8 marzo, giornata internazionale della donna la Polizia di Stato della provincia di Alessandria ha organizzato un incontro con gli studenti delle scuole medie superiori per illustrare la campagna di sensibilizzazione che accometteva Questo non è amore La manifestazione è stata indetta dal Ministero dell'Interno e questore di Alessandria ha dato la possibilità di fare questo progetto in Casale e siamo passati da una mentalità militare maschilista a considerare i problemi sotto un altro aspetto sotto un altro aspetto perché c'è la collaborazione del genere femminile che ha portato un altro modo di pensare una consapevolezza diversa, una sensibilità diversa e quindi questo non può che arricchire un corpo come il nostro un gruppo di uomini che deve essere a servizio dei cittadini e quindi a servizio anche delle donne L'incontro si è svolto nella centralissima piazza Mazzini di Casale Monferrato dove è stata illustrata l'attività delle forze di polizia a tutela delle donne vittime di violenza ed il lavoro delle donne nella polizia di Stato Che cosa è cambiato? Lei fra l'altro è medico e quindi conosce il dolore e la violenza Sicuramente penso che le donne comportino un valore aggiunto perché abbiamo questa forza di andare avanti questo sorriso che è dettato da tante cose dal potere che ci viene dato non solo indossando questa divisa ma anche da tutto ciò che possiamo portare in una casa, in una famiglia dal fatto che comunque possiamo trovare un'energia in più quindi una donna nella polizia di Stato vuol dire anche un atteggiamento sicuramente più empatico nei confronti di chi soffre In questa giornata che cosa ti rimava lì più in mente? Beh sicuramente il fatto che ci possano dare dei consigli per come affrontare queste cose e comunque è una cosa che capita sempre più spesso e quindi ci possono servire queste cose Ci rendono partecipi di quello che sta succedendo e di metterci anche in allerta su quello che ci potrebbe anche succedere Beh credo sia molto importante perché noi ragazzi dobbiamo capire che non serve mettere le mani addosso alle donne e non è giusto in nessun caso e quindi dobbiamo cercare di esprimere i nostri sentimenti se cerchiamo di esprimere quelli in altri modi senza usare le mani nella violenza Adesso parliamo di opere d'arte iniziata l'operazione di salvaguardia valorizzazione di una delle opere d'arte più valide più belle e importanti della città di Alessandria che è il mosaico di Severini nel palazzo delle poste centrali racconta la storia o rappresenta meglio la storia delle comunicazioni da due giorni non ci sono le auto in sosta davanti perché sta nascendo l'area pedonale ma vediamo in questo servizio Sono puntualmente iniziati i lavori per far nascere l'area pedonale davanti al mosaico del futurista Gino Severini posizionato sulla parte frontale del palazzo delle poste la maggior parte degli alessandrini non si è mai accorta di quanto sia bello il mosaico di Gino Severini soprattutto quando si avvicina il tramonto di quanto risaltino materiali le tessere che compongono le varie figure e di come lucchino con i raggi del sole che arrivano diretti passando sopra il palazzo rosso del comune queste le immagini fatte ieri alle 5 della sera Non ci ho mai fatto caso che esistesse tale bellezza all'interno della città invece in questo modo si nota questo mosaico bellissimo che c'è qui sulla facciata delle poste è risultato invisibile per un po' di tempo perché c'era sempre la macchina parcheggiata davanti adesso stanno facendo i lavori per renderlo più visibile però restringono anche la carreggiata qui in piazza della libertà voi siete d'accordo? Io sì perché il parcheggio ad Alessandria non manca se fanno due passi in più e vanno a passeggiare un po' più avanti non mi sembra che sia un danno e poi abbellisce un po' la piazza visto che il degrado comincia a sentirsi anche in questa piazza guardando anche le panchine Il mosaico ha priorità su vedere delle macchine messe in doppia e in tripla fila a mio giudizio magari ci vorrebbe anche l'intervento dei vigili che venissero a togliere le macchine quando ci sono Hanno fatto un bel lavoro hanno fatto bene per me hanno fatto una stronzata intanto c'erano quelle ringiere là che ci andava di là non ci andava nessuno per la città sarebbe ora che queste cose venissero fatte sì molto bello approvo in pieno innovare per crescere il territorio e le frontiere del settore agroalimentare è stato questo il tema dell'incontro che si è svolto nella sala multimediale della sede provinciale della Coldiretti di Alessandria sentiamo Franco Capone la Coldiretti Alessandria sempre in primo piano nella ricerca sull'innovazione per crescere in agricoltura ha tracciato in un convegno svolto sia nella sala multimediale della sede provinciale di Corso Crimea ad Alessandria le frontiere del settore agroalimentare lavorando in stretta collaborazione con il Cadillab il Consorzio Agrario del Piemonte Orientale l'Università degli Studi di Torino la SATA la Cooperativa Monferrato Frutto e Agrion insieme alle imprese del territorio tutti insieme hanno lavorato in questi mesi in stretta sinergia per richiedere finanziamenti per la costituzione dei gruppi operativi progettuali per lo sviluppo di innovazioni utili all'agricoltura e alla forestazione piemontese idee e non solo ma progetti che Paolo Rendina del Cadillab ha definito insieme cooperando siamo riusciti in qualche modo a presentare dei progetti che hanno un loro significato una loro importanza per il territorio sono diversi sono cinque i progetti che presenteremo oggi e hanno tutti una ricaduta economica sul territorio per l'agricoltura locale presentano delle innovazioni delle innovazioni importanti per l'agricoltura che vanno a risolvere delle problematiche ben specifiche che se risolte poi porteranno un frutto un frutto all'agricoltura locale in termini di reddito e anche di sviluppo delle filiere ora l'ultima parola spetta alla regione Piemonte ha affermato il presidente provinciale della col diretti Alessandria Roberto Paravidino intervenendo al convegno è inutile nel gallo noi siamo determinati a portare avanti sul territorio priorità in grado di garantire reddito alle imprese e dare nuovi incentivi alle filiere locali migliorando sia quelle già esistenti che creandone di nuove col diretti guarda sempre il futuro lo guarda sempre con uno sguardo sulla sua tradizione ma anche sull'innovazione che sta venendo in agricoltura e l'impatto che abbiamo sulla società e sui consumatori soprattutto lo dimostra quindi vuol dire che la nostra progettualità è recepita e abbiamo sempre cercato già da anni di puntare in queste direzioni e ne stiamo raccogliendo finalmente risultati ecco presidente questo grande grande progetto che raggrupperà numerose iniziative avrà una ricaduta un utile sul poi il mondo dell'agricoltura io sono convinto certamente di sì perché ci siamo adoperati come col diretti praticamente a mettere in sinergia tutte le forze che sono sul territorio coordinate appunto dalla grande organizzazione che è la col diretti noi abbiamo fiducia in questo PSR perché tutto quello che abbiamo presentato nella nostra progettualità è legato ai nostri progetti di filiera che come sanno anche i nostri consumatori ci sono mossi in tante direzioni io sono sicuro che questo progetto porterà anche ritorni economici alla nostra provincia soprattutto alle nostre aziende adesso sono tante le iniziative che riguarderanno la diocesi di Acquiterme in occasione del 950esimo anniversario dell'intitolazione alla cattedrale dell'assunta sentiamo in questo servizio da Fabrizio Guantana 950 anni fa esattamente l'unici novembre del 1067 la cattedrale di Acquiterme veniva intitolata Nostra Signora Assunta e per festeggiare l'avenimento in tutta la diocesi vengono organizzate diverse iniziative che culmineranno nelle soleni celebrazioni del prossimo autunno il vasto territorio diocesano che si estende anche all'introterra Ligure si sta preparando al giubileo con una serie di incontri artistico-spirituali che porteranno nei diversi centri zona innanzitutto il messaggio del Vescovo Sanguido per la cui volontà la cattedrale fu edificata ma anche una più profonda conoscenza e analisi delle opere artistiche ivi contenute alcuni incontri si sono già svolti altri animeranno le serate quaresimali fino a Pasqua considerando il territorio di cui ci occupiamo specificatamente nella zona Acqui Alessandria gli appuntamenti con fede e arte si terranno ogni martedì presso il nuovo ricreatorio di via Cassino ad Acquiterme con relatori fra gli altri il professor Bruno Galizzi Don Aldro Migneri e Don Maurizio Bensi per la zona Nizza Canelli si partirà da lunedì 20 marzo presso il salone San Nazaro di Nizza Monferrato mentre per la zona Ovada Valestura è stata stilata una ricca serie di appuntamenti che ogni venerdì coinvolgeranno non solo buona parte delle chiese di Ovada ma che si spingeranno anche a Belforte a Tagliolo di particolare rilievo sarà proprio la serata del 17 marzo presso la parrocchia di Belforte Monferrato con il docente di storia dell'arte Arturo Vercellino e il docente di letteratura Carlo Prosperi che affronteranno l'argomento la cattedrale di Acqui 950 anni di storia arte e fede fra le altre iniziative il pellegrinaggio della reliquia di Sanguido Vescovo nelle varie zone della diocesi in tale occasione ci saranno momenti di preghiera e catechesi ad Ovada la reliquia giungerà presso la chiesa parrocchiale di Nostra Signora Assunta giovedì 27 aprile e vi rimarrà fino a mercoledì 3 maggio l'anno del giubileo della cattedrale vuole mettere in rilievo il suo ruolo storico e spirituale e aiutare i fedeli a ritrovarli partendo poi dal luogo in cui il duomo è stato costruito cioè quello più alto della città viene naturale riflettere sul ruolo che la chiesa esercita tuttora maestra di verità faro che indica la strada da percorrere e punto da cui si propaga la missione verso i territori limitrofi Adesso parliamo di Film Festival e ce ne parla Roberto Monteriso dalla nostra redazione di Torino Buonasera e bentrovati a tutti i telespettatori parliamo ora di cinema perché con un'anteprima nazionale si inaugura questa sera alle ore 21 al Cinema Massimo di Torino la sedicesima edizione del Piemonte G-Local Festival 53 i film in calendario con proiezioni quotidiane a 5 euro fino al prossimo 12 di marzo diamo un'occhiata Parte questa sera fino al 12 marzo la sedicesima edizione del Piemonte Movie G-Local Film Festival la rassegna annuale dedicata al cinema piemontese due importanti novità per la prima volta l'intera manifestazione si terrà nelle sale del Cinema Massimo in Via Verde 18 e la nuova direzione artistica quella di Gabriele Diverio che fin dalle prime edizioni ha curato prima la sezione Spazio Piemonte poi Panoramica Doc contribuendo sempre di più al festival con la sua impronta personale Un viaggio che parte con l'anteprima nazionale del documentario Ninna Nanna Prigioniera di Rossella Schillaci passa per i documentari cortometraggi in concorso nelle sezioni Panoramica Doc e Spazio Piemonte conduce agli omaggi a due autori che hanno fatto la storia del nostro cinema il regista torinese recentemente scomparso Corrado Farina e Carlo Ausino di Vittorino Violenta finché quest'anno compie 40 anni dall'uscita e che darà occasione per spingersi in altre città violente con la rassegna Guardie e Ladri Poliziottesco all'italiana fino alla chiusura con il lungometraggio Babylon Sisters di Gigi Roccati il tutto come sempre lungo il fil rouge del Piemonte quest'anno il G-Local Film Festival riserva spazio anche alla formazione per quelli che il cinema la ritengono una passione ma anche una professione con una masterclass di scrittura per cinema e tv con lo sceneggiatore Nicola Guaglianone per imparare il lavoro con i consigli di uno dei principali addetti ai lavori del momento E dopo questo servizio la linea può tornare alla nostra redazione di Alessandria E noi chiediamo qui l'appuntamento con informazione tra poco dopo la sigla però ci sarà lo sport e nella pagina sportiva oggi parleremo di calcio Mister Braglia ha sottoposto l'Alessandria ad una serie di allenamenti per affrontare nell'anticipo di sabato prossimo l'Olbia fermo per infortunio Luca Piana vedremo questo servizio curato oggi da Franco Capone e poi subito dopo il meteo e le notizie utili grazie per l'attenzione arrivederci